allora no si comincia un pezzo va bene siamo bellini modelli comunque fatto sta che ora noi partiamo per venire a firenze e farò il blog per chi non è venuta io sto vedendo dei pippoli bianchi le vedi però fatto sa che ce so quindi speriamo non sia neve che sia soltanto il vento mettiamola così siamo nel pullman per andare a firenze io vorrei vedere di farvi un blog ma non sono sicura di avere spazio abbastanza nella però spero che ce la facciamo con lo spazio nel telefono perché se no stiamo nella merda mi sono data quello della mac no ce l'avrà la vina oddio spero che la vina abbia l'iphone mi sa che la vina c'è l'iphone allora a parte se hai visto delle foto su internet di un cane che trova un bambino nella spazzatura ragazzi nella spazzatura con ancora il cordone umbilicale l'ha salvato cioè ma voi avete idea di cosa vuol dire buttare un bambino nella spazzatura ecco questo volevo fare la challenge più hot io non ho parole comunque vediamo se riusciamo con lo spazio io spero di sì sta venendo fuori una brutta giornata cazzo c'era un sole bellissimo quello della mac è ancora qui ma se ne sta un passando ho fatto colazione ho bevuto quindi quindi dai vi salutiamo dopo cioè vi salutiamo dopo vabbè lui mi distrae naturalmente quindi non riesco a fare niente quindi ci vediamo dopo prossima fermata allora siamo arrivati siamo belle state da sephora sei colorata c'ha tutta la mano e vabbè e ho preso solo questo sono stata bravissima 10 euro guarda bello figo mi piace c'è l'inne che ci passa dietro guardate le ciglia di lavi che c'ha le 15 sembrano le ciglia fantastico amore ciao quindi ciao non avete idea in che posto siamo troppo figo e poi siamo lavi è bellissima vestita scicchettosa io e lui vero siamo proprio alla dio boia si fa lei il suo video il mio ora vi può vedere dove siamo cioè guardate guarda e io mi fosenti cioè troppo bello c'è l'alberino con le luci e siamo sopra l'acqua c'è mi piace troppo sì come una bambina praticamente uguale sto facendo le foto dappertutto l'ho mandata al mio babbo ovunque poi c'è la lavi la che sta facendo il vlog vedi la lavi come è venuta vestita tutta bella ma tu no no invece sia bella invece io vedi molto il giacchettino di lana della haritas e i pantaloni a 5 euro del mercato ma ci piace lui lui con la maglietta degli yankee e oggi faccio la single e oggi faccio la single e quindi non c'è la compagna oggi faccio la compagna ho preso la 104 comunque bellissimo mi garba guarda sono rimasta sconvolta dal posto troppo troppo bello molto molto bello figo però senza parole che piazza è questa della signoria allora siamo in piazza della signoria con le signorie perché io non mi zero lui non è e poi c'è lavi e poi ci sono io e poi c'era un canino con la lingua e poi si è fatto le foto al tramonto un pochino e poi siamo qui in questo piazzale della signoria che io un quante volte sono pure a firenze sì c'ero passata c'era però non ci avevo mai fatto caso è come i fiori quando passi le vedi sborciate quindi ora noi si è bevicchiato un pochino siamo tutti alticci e brilli non è ora alticci e brilli no però insomma io che non bevo il sonastemia diciamo che ora abbiamo 30 no andiamo a questo ora se no camminavo con i gomiti io cammino sempre con le mani eh con le mani con le mani con le mani basta spengo un pochino arrivati a mezzo della lavi io mi sono arrivata a lì per la quarantesima volta tutti mi dicono rieggio e fatto sta che la cinquantesima volta e me lo do ma è invidiosa del mio è invidiosa del mio ma perché a parte che sono invidiosa del suo perché giustamente io avendo le labbra c'è la piccina e uscì qui c'è la più bella si poi se le lecca in continuazione e poi io me le sprucchiccio in continuazione quindi è bello questi occhiali e niente ora si cercherà di mangiare se fa lina da mangiare quindi prima un po' si apparecchiate a noi si apparecchia certo certo cammela meglio ora vi fa conoscere Harley Harley amori sono brutta con gli occhiali col muso rosso gli ho dato un bacio si c'ha il bacio la mamma t'ha baciata Harley fatti vedere piano alì me li fai paura eccoci eccoci madonna mina santa ecco non gli volevo fare paura è andata così no ma lei è scarpa e quindi niente dai ora noi prepariamo la pappa se mi dai un pezzetto di carta a parte che ho la patta se mi dai un pezzetto di carta pulisco la cacca della Harley no dai ce n'è 3 o 4 pezzetti lì e poi i pesciotti che questo lo adoro ce l'avevo anch'io con la coda lunga ragazzi scusate ma stasera metto i piatti in plastica salutate perchè io spengo allora io spengo e poi chi sei visto? se hai visto ci sei domani buona mime buongiorno allora a parte che poi ieri sera ci siamo messi in casa di lavi grande abbiamo bevuto un po' troppo e siamo rimasti in casa io aline e il citto di lavinia abbiamo veramente ehm dato il meglio di noi ieri sera queste citte sono venute a mangiare con noi siamo stati insieme siamo stati bene però ecco non ho fatto più vlog perchè insomma eh e nemmeno ora lo faccio guarda com'è sto e niente ora andiamo a casa piano piano tanto c'ho la leda che è con la nonna silvana quindi sono tranquilla non ho bisogno di di dargli da mangiare come cani no? no po' la leda come cani nel senso che lei da sola non eh si mi ti ha fatto a mangiare nel senso invece c'è nonna silvana che ha dieci anni meno di lei e va con i treni e ora siamo usciti ma è già tardi eh che mattina presto sono le dodici saranno le dodici quindi voglio dire che ho fatto siamo usciti che bello tutta sta vita c'è tutta sta vita che so anche le dodici sai com'è la gente sveglia da stamane ai 7 va bene allora ora io vi saluto spero che questo vlog vi abbia fatto vi abbia fatto un po' di compagnia avete fatto male a non venire perchè ci siamo divertiti molto io vi mando un bacio fate brave Alin grande ciao